Incendio nel primo pomeriggio di oggi a San Giovanni Valdarno, nell'area esterna dell'Ivv, l'azienda vetraria situata in Lungarno Guidoreni. Ad andare a fuoco una tettoia adibita a deposito di materiale vario in cartone e plastica. Nell'area si trovava anche un'auto che non è stata lambita dalle fiamme, che hanno invece bruciato le coperture in plastica della tettoia, oltre al materiale che si trovava sotto di essa. Per fortuna l'incendio non ha interessato lo stabilimento e nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto si sono portati subito i vigili del fuoco di Montevarchi e una squadra da figline che hanno provveduto a spegnere il rogo e in seguito a bonificare l'area. Intervenuti anche i carabinieri di San Giovanni. A causa del fumo denso si è reso necessario chiudere temporaneamente l'autostrada A1 fra i caselli di Incisa Reggello e Valdarno. I danni, seppure da quantificare, sembrano essere molto limitati. Resta da stabilire che cosa ha provocato l'incendio. Saranno le indagini quindi a determinare quali siano state le cause che hanno originato le fiamme.